Con noi c'è Giancarlo Silveri, direttore generale della ASL numero 1 Avezzano sul Monal Aquila, benvenuto. Abbiamo piacere di parlare con lei perché in questi giorni, in queste settimane, periodicamente a Bruzzo Web pubblica segnalazioni di utenti che lamentano ritardi di servizi, lunghe code, eccetera. Partiamo dal San Salvatore, dall'ospedale, l'ultimo caso, nove ore per una visita ortopedica, sono troppe. Non è proprio così, nel senso che la signora è andata al pronto soccorso, peraltro, per una prestazione, mi pare di ricordare, se ci riferiamo allo stesso caso, che non fosse una prestazione proprio da pronto soccorso, ha aspettato tre ore circa per fare la radiografia e credo anche un attacco. Dopodiché le hanno detto di tornare il mattino dopo per essere vista dall'ortopedico, perché l'ambulatore ortopedico, a meno che non siano cose gravissime, druggentissime, alle otto chiude. Non fa in giornata. E quindi è tornata la mattina dopo, e la mattina dopo chiaramente c'era la calca che c'è normalmente e che adesso stiamo vedendo come risolvere, della quale adesso parlo un momento più diffusamente, per cui ha dovuto aspettare delle altre ore lì. Quindi non è nove ore che è arrivata la mattina alle nove e è uscita la sera alle diciotto. Ma ha dovuto fare questa cosa, per carità non è che va tutto bene. La calca c'è? Però la calca nella parte ortopedica, ripeto, noi abbiamo anche nel pronto soccorso generale molte prestazioni improprie, non da pronto soccorso. Spesso il pronto soccorso viene utilizzato per abbreviare i tempi di indagini e di approfondimenti, ovvero perché è un modo per non pagare il ticket. Diciamolo in modo brutale, ma è così. Comunque sia, tendiamo a far fronte a tutti. Per quanto riguarda la parte del pronto soccorso ortopedico, stiamo facendo in modo, e questo dovrebbe entrare in funzione, credo, entro il prossimo mese, se ce la facciamo, l'apertura e la chiusura della prestazione di pronto soccorso, uno arriva, fa il triage, lo destinano immediatamente al pronto soccorso ortopedico, non deve prima essere visto dal pronto soccorso generale e poi da quello, quindi evita una fila, dall'altra parte chiedono le consulenze se serve e chiudono lì stesso la pratica di pronto soccorso. Che poi è quello che chiedono i cittadini. Esatto, e quindi sarà il prossimo successivamente il tempo necessario per procedere all'assunzione di un medico, provvederemo a fare in modo che in caso di necessità di accesso notevole, possa intervenire un secondo medico per poter alleggerire le cose. Quindi l'ASL è in grado di assumere comunque? L'ASL sta sulla base del nuovo atto aziendale definendo la nuova pianta organica. Noi in questa fase siamo facoltizzati ad assumere medici al 90% di quelli che vanno in pensione e personale non medico al 40% di quelli che vanno in pensione. Ci stiamo attenendo a questo e sulla base della pianta organica che scaturisce dal nuovo atto aziendale poi vedremo come fronteggiare eventuali esigenze. Credo però che l'ottimizzazione dei servizi e la razionalizzazione ci consente di poter fare già molto con quello che abbiamo e che comunque già possiamo assumere. Andiamo al distretto sanitario di Collemaggio, anche lì ci sono state delle lamentele, soprattutto per le code. In un episodio, scusa se l'interrompo, ci fu addirittura delle scene, vennero chiamati carabinieri, insomma, sono state delle scene molto toste. Il problema derivava dal fatto che per quel tipo di prestazione era necessario poter accedere all'anagrafe del Ministero delle Finanze e era inibito l'accesso al sito, per cui di fatto noi potevamo servire i cittadini accedendo a quel sito se il sito era inaccessibile. Per altri casi, insomma, non mi pare che le cose siano spesso così. Io vorrei dire questo. Noi siamo un'azienda che in questo momento ha circa 3.800 dipendenti su tutta la provincia. Siamo un'azienda in fase di fusione fra due aziende preesistenti e naturalmente i posti che possono essere appetibili vanno a restringersi, vanno a comprimersi e in molti casi, quindi, alcune aspirazioni possono essere deluse. La delusione delle aspirazioni può portare sia nel mondo dei medici, può portare, non detto che porta, sia nel mondo del personale non medico, anche amministrativo, a qualche esasperazione e quindi a giochetti di vario genere ai quali assistiamo con lamentele non sempre pertinenti. Ci sono dei delatori, secondo lei? No, delatori. Il delatore è colui che dice una verità. Quello che crea il problema non è delatore, è un impiegato o un dipendente comunque infedele. Non dico che sempre è così. Può anche essere questo. Però non diciamo che non tutti i servizi sono rose e fiori. No, per carità. Ma il giorno in cui in sanità tutto dovesse funzionare perfettamente, credo che non lo vedremo mai, perché poi, ringraziamo di Dio, è un mondo in evoluzione continua, sia sotto il profilo organizzativo che delle scoperte scientifiche, delle apparecchiature, delle attrezzature elettromedicali, per cui è chiaro che c'è sempre qualcosa in più da fare. Nel nostro caso, non ci dimentichiamo, noi siamo un'azienda che si trova a dover, in primo luogo, fare la normale gestione di un'azienda sanitaria. Farlo in una logica di unificazione fra ex aziende, che non è cosa ordinaria né facile, tenendo conto che Avezzano, sul Monacastel di Sangro, avevano fatto una fusione, ma era sulla carta, nella sostanza non c'era mai stata, e quindi dovendo fare unica azienda davvero questa volta. Il terzo caso, questa cosa la dobbiamo fare in una fase di riordine, di rientro, perché siamo una regione commissariata. Il quarto caso è che la dobbiamo fare in una situazione di post-terremoto all'Aquila. Noi siamo una regione in piano di rientro, una regione commissariata, perché non riusciamo a farci bastare i soldi che ci vengono dati per fare assistenza. Diversamente come avviene invece in altre regioni italiane. Le chiedo una cosa su questo. La sanità è probabilmente il primo dei servizi, insomma tra i primi comunque per i cittadini. Quindi, è possibile che per un servizio che garantisce appunto la salute, quindi la vita dei cittadini, si debba ragionare nell'ottica dell'azienda, quindi del produrre profitto? Forse questa mentalità andrebbe applicata da un'altra parte? No, 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 non è corretto, consenta, non è corretto. Allora, a noi viene dato un contributo dal Servizio Sanitario Nazionale che è rapportato ai cittadini che abbiamo residenti e al peso della popolazione. quindi è un contributo pesato, perché se io ci avessi tutti anziani è chiaro che avrei bisogno di maggiori contributi dal servizio internazionale che se avessi tutti giovani, ovviamente. Per cui è pesato. Noi non dobbiamo fare utili, perché man mano che abbiamo risorse le possiamo spendere e le dobbiamo spendere per migliorare, per ammodernare, per fare di più e meglio. È un'utopia questa, secondo lei? No, assolutamente no. Noi non è che dobbiamo fare dividendi, il dividendo non esiste. Quello che abbiamo è che abbiamo debiti pregressi per bilanci chiusi in rosso negli anni passati che nella sommatoria delle due ex aziende montano a 180 milioni di euro, per cui lì dobbiamo poi in qualche modo metterci mano. Allora, io è chiaro che nel momento in cui dovessi avere un utile, ne approfitto, perché non è che me ne accorgo alla fine dell'anno, man mano che vado avanti. Adesso che siamo in fase di commissariamento ogni mese dobbiamo mandare ai ministeri della salute e dell'economia il rendiconto di come siamo combinati, per cui man mano che vedo che andiamo avanti bene provvedo a fare investimenti, provvedo a fare ammodernamenti e quanto altro utile è possibile. Quindi, devo dire anche che questo piano di riordino e di rientro è stato fatto senza una mentalità e una visione di tipo ragioneristico. Si è provveduto a razionalizzare l'esistente. Quello che io voglio dire è questo. L'assetto di un'azienda lo definisce l'atto aziendale, che è lo strumento di organizzazione e di programmazione, riorganizzazione e strutturazione organizzativa dell'azienda. Noi l'atto aziendale l'abbiamo approvato il 2 febbraio, l'ultimo scorso. Quindi gli effetti dell'unificazione li avremo nel corso dei prossimi 1, 2, 3 anni. Bene. Nonostante questo, avendo cura e attenzione e facendo le cose, perché l'ospedale dell'Aquila lo abbiamo recuperato e lo stiamo recuperando. A proposito di questo, le faccio una domanda. E altre cose abbiamo potuto aiutare il bilancio di quest'anno a pareggio, avendo cura agli sprechi, avendo cura all'ottimizzazione, avendo cura a cercare di fare le stesse cose utilizzando un criterio di ottica ad evitare lo spreco, quello che non serve, l'ottimizzazione, la cancellazione di duplicazioni che non servono. Però non si rischia di incidere anche sui servizi essenziali? Anzi, a me pare di no. Io credo che nessun cittadino può aver lamentato la mancanza di servizi essenziali. Mi pare anche che le lamentele dei cittadini, legittime in moltissimi casi, per quanto riguarda le liste d'attesa, sono simili a quelle del passato. Per cui non è che abbiamo fatto qualcosa di peggio. Abbiamo, secondo me, migliorato. Per quanto riguarda l'ospedale dell'Aquila... Volevo chiedere una cosa su questo. Partiamo dal punto del peccato originale, diciamo così. I mitici soldi dell'assicurazione del San Salvatore per la ricostruzione. Dove sono finiti? Rispondo con una domanda e poi spiego. Noi, l'ospedale dell'Aquila, lo abbiamo recuperato fino ad oggi, portando i posti letto a 368. Noi, secondo piano sanitario, ne dobbiamo avere 400. I posti letto a 368. Abbiamo recuperato tutto il reparto operatorio, i pronto soccorso, la rianimazione, con l'emodinamica e con la unità coronarica e il laboratorio analisi, la senologia. Stiamo completando, credo che nei primi giorni della prossima settimana si trasferisce la farmacia nei locali definitivi, si trasferisce l'anatomia patologica nei locali definitivi, per una parte, l'altra parte sarà pronta entro giugno. Insomma è il cantiere in corso. Abbiamo speso fino ad oggi circa 30 milioni di euro, abbiamo affidato i lavori per la costruzione, abbiamo fatto la gara, la procedura, tutto quanto, per la ricostruzione dell'edificio delle chirurgie, il delta chirurgico, è un appalto di 6 milioni di euro e stiamo predisponendo il progetto di massima per 12 milioni di euro che del Palazzo delle Medicine e altro. Siamo a 50 tra tutto, facendo un corso, no? Sì, grosso modo. Ecco, questi soldi li abbiamo spesi, per cui ci sono stati dati, per la costruzione dell'ospedale. Noi nel 2009 abbiamo avuto solo i costi, non abbiamo avuto i ricavi. Bene, questo fatto di aver avuto solo i costi e non i ricavi ha portato che la nostra ASRA, perché allora i bilanci erano ancora divisi, erano ancora due aziende diverse, la perdita di bilancio a 50 milioni, 51 milioni di euro. Con i soldi dell'assicurazione quella perdita si è abbattuta a 3 milioni e mezzo di euro. Quindi abbiamo avuto una perdita anziché di 50 milioni di euro a 3 milioni e mezzo di euro. Nel momento in cui ci hanno dato i soldi per altro verso, per ricostruire l'ospedale, chiedo che cosa è stato tolto all'Aquila? Ce lo dica lei? Niente. Molto semplicemente, perché se io l'ospedale l'ho ricostruito, no? E i soldi dell'assicurazione li ho spesi all'Aquila perché ho avuto solo i costi e non ho avuto i ricavi, sarebbe stato tragico se io avessi utilizzato quei soldi per ripianare una perdita di bilancio dell'Aquila e non avessi avuto i soldi per costruire l'ospedale. E a chi dice che è stato ripianato le perdite anche della sanità regionale? Non è vero. Non è una misogna? Ma vede, scusi, è chiaro che se io ho una perdita va a impattare sul bilancio regionale della sanità. Se io ho una perdita grande l'impatto è maggiore, se io ho una perdita piccola l'impatto è maggiore. Ma quello che è certo è che comunque sia io le mie spese me le devo pagare da solo perché i soldi li ottengo come li ottengono tante aziende sanitarie italiane che si fanno abbastare i soldi che gli danno. Allora, se io ho una perdita è chiaro che vanno a impattare sul bilancio regionale ma è anche giusto che se non ce l'ho non ci vadano. Non è che c'è da andare per forza perché in qualche modo quello dobbiamo ripagare. Io credo che se le cose continuano così sarà possibile alla regione visto che non deve più andare a reperire soldi per ripianare i buchi delle singole aziende che sono relative ai singoli territori è possibile che cominciano a mettere mano ad una riduzione del carico fiscale previsto per il ripiano dei debiti della sanità. Andiamo al resto della provincia, usciamo dal territorio comunale dell'Aquila come se la passa il resto dell'ASL? C'è questo stacco forte tra il capoluogo e gli altri centri che reclamano attenzione? Guardi, io ho promesso che ognuno avrebbe avuto almeno quello che aveva e devo dire che ho mantenuto questa promessa ho assunto un impegno e l'ho mantenuto ognuno ha almeno quello che aveva salvo qualcosa in più all'Aquila noi abbiamo in più che non avevamo prima una serie importante di attrezzature di diagnostica per immagini una serie importante di attrezzature per quanto riguarda la radioterapia stiamo mettendo in funzione ormai mettere in funzione un acceleratore lineare cioè per fare la radioterapia è un qualcosa che richiede almeno un anno circa un anno, un anno e mezzo fra il creare il bunker montare la macchina sperimentarla fare le dosimetrie della radioterapia è un processo lungo stanno ultimando i nostri tecnici il nostro personale di fare la formazione sulla nuova macchina quindi è in funzione la nuova macchina per la radioterapia questo ci consente di re-ingegnerizzare la vecchia così da averne due re-ingegnerizzare la vecchia richiede 6-8 mesi è una barca di soldi pure quello però ce ne avremo due abbiamo una macchina per la brachiterapia che è una macchina che consente di installare dei semi radioattivi in sito questo è sempre per l'Aquila? sì, all'Aquila ma il resto della provincia non rischia di insorgere e dire troppo sull'Aquila? no, perché queste cose vanno accentrate cioè tutto quello che è di radioattività è necessariamente, deve essere accentrato non possiamo permetterci l'uso di disperderlo c'è adesso una così disputa per quanto riguarda una TAC PET perché la fondazione Carispac avrebbe messo a disposizione una somma di circa un milione di euro per una TAC PET ad Avezzano perché ad Avezzano? perché ogni anno la fondazione Carispac destina delle somme per i vari territori della provincia i soci avezzanesi, marsicani hanno ritenuto di devolvere le somme spettanti al loro territorio investimenti sul loro territorio per fare in un primo momento l'acceleratore ordinario perché volevano la radioterapia quando io ho detto che questo non era assolutamente possibile hanno cambiato e hanno detto allora ci devi montare una TAC PET quindi hanno fatto lobby diciamo così ebbè loro hanno detto scusa, sti soldi li dobbiamo spendere noi sul nostro territorio li spendiamo per l'ospedale per fare questo ora se noi diciamo no i soci marsicani destinano quei soldi spettanti al loro territorio per altre cose se noi diciamo sì abbiamo dei problemi che ci si creano di tipo intanto del non accentramento e quindi c'è un po' di querelle da questo punto di vista perché è un'attività radiogena e quindi per altro verso un milione non è sufficiente ce ne vogliono due, due e mezzo per completare tutto e in più ci vogliono circa 300.000 euro l'anno di personale e come si dipana questo dubbio amletico? a questo punto dobbiamo incontrarci con la fondazione e con i soci marsicani della fondazione che sono poi titolati a destinare le loro somme sul loro territorio per vedere se possiamo fare un'altra cosa che possa essere utile ad Avezzano perché altrimenti le destinano per altre loro iniziative e stavo pensando di sto procedendo insomma a fare una ricerca di mercato perché vorrei attivare una TAC PET mobile che possa venire sulla nostra provincia quando serve una volta al mese due volte al mese quando serve e in modo che possiamo avere il servizio senza dover avere perché se averlo all'Aquila se serve all'Aquila averlo ad Avezzano se serve a Veggiano averlo a Sulmona se serve a Sulmona senza per questo avere costi aggiuntivi rispetto a quella che è una locazione di un qualcosa che lo sta Pescara sta facendo in questo modo per esempio e credo che sia un esempio da sezione due domande in una quanto ancora a lungo pensa di rimanere manager di questa ASL e per quanto riguarda il suo impegno futuro se è preoccupato dell'ipotesi che si è sentita sulle cronache nazionali una spending review in cui ballano 25 miliardi sulla sanità se può influire se può arrivare fino all'Aquila fino alla periferia dell'impero diciamo così io credo che sulla sanità noi abbiamo sicuramente fatto molto di recupero degli sprechi e di compressione dei costi nella regione Abruzzo e nella nostra azienda credo anche che probabilmente stiamo dando molto non sempre lo diamo bene e in questo c'è necessità di recuperare un rapporto serio di tensione di ruolo con il nostro personale ma questo è tutto un altro aspetto inerente alla formazione che stiamo cercando di risolvere con dei corsi che stiamo facendo dalla Bocconi per un verso e altri che adesso faremo fare dalla LUIS per altro verso quindi una formazione spinta anche a tenere conto degli aspetti della umanizzazione il nostro personale deve sempre più assumere come modello che di fronte a una persona peraltro visto che è necessitata di cure fragile e non una patologia non una malattia e quindi questo dobbiamo cercare di farlo assolutamente passare come messaggio quindi se le chiederanno di tagliare ancora dicevamo io credo che il taglio che possiamo fare noi possiamo ancora fare dei tagli perché nel momento in cui andiamo ad attuare l'atto aziendale viene da sé che alcune duplicazioni che adesso noi in questo momento abbiamo per esempio 16-18 direttori di dipartimento perché sono quelli ereditati dalle due asole la settimana prossima diventeranno 8 quindi abbiamo 10 indennità di direttori di dipartimento meno i servizi il direttore di dipartimento è una funzione organizzativa deve saper rapportare tutto quello che sono le sue materie e le deve saper organizzare quindi non è una funzione di prestazione sanitaria è una funzione organizzativa per dire ecco tanto per dire la cosa più immediata che accadrà per cui io credo che l'attuazione dell'atto aziendale qualche altra possibilità di economia l'avremo però intanto che i contributi che ci danno sono questi possono questo generale degli utili che riutilizziamo al nostro interno facendo le nostre attività c'è un punto di non ritorno il quale non si può tagliare il punto di non ritorno lo stabilisce il governo nel momento in cui dice quali sono i livelli essenziali di assistenza che cosa dobbiamo dare gratuitamente alle persone quali sono i farmaci che dobbiamo dare gratuitamente alle persone quali sono le prestazioni che dobbiamo dare alle persone ma se l'asticella si abbasserà sempre di più si arriverà a una ribellione se l'asticella si abbassa sempre di più ma credo che insomma io voglio dire questo noi sconfina in un ruolo che non è mio perché è un ruolo squisitamente politico però voglio fare un ragionamento credo di buon senso uno dei principi di economia è che e peraltro ce l'abbiamo nella Costituzione l'Italia è fondata sul lavoro l'andamento generale delle cose ha fatto sì che si confondesse troppo spesso il lavoro con lo stipendio bene per cui si è portato a fare del mondo del lavoro anche una serie di attività sociali che per carità è assolutamente giusto se te lo puoi permettere è assolutamente giusto quando non te lo puoi permettere devi fare in modo che il lavoro faccia la sua parte di creare ricchezza che ti consente anche di fare poi gli aspetti sociali gli aspetti di tutto quello che è un vivere decoroso noi probabilmente abbiamo in una situazione politicamente bloccata come è stata in Italia dal dopoguerra fino agli anni 90 in cui poi alla fine si tacitava chi urlava si è creata tutta una serie di serre ognuno sta bene nella sua serra il problema è che quando esce dalla sua serra e va in un'altra serra si trova ad impattare con un mondo che guarda alla sua serra e quindi ci abbiamo di fatto un quadro normativo contrattuale che è sempre molto attento agli addetti ai lavori e un po' meno attento al cittadino ecco allora se riusciamo a riconvertire questo questo fenomeno attraverso una maggiore tensione di ruolo per esempio attraverso una maggiore possibilità di richiamare le persone a svolgere il proprio compito a guadagnarsi lo stipendio perché poi non sempre è così e non sempre è facile specie nella pubblica amministrazione affermare questo tipo di cultura dove insomma per tanti anni si è preferito utilizzare quelli che avevano voglia di essere utilizzati e gli altri lasciarli in un angolo quindi lei non è preoccupato per un'eccessiva assorbiciata nel futuro io credo che non si può salvare l'Italia aumentando le tasse a dismisura io credo che si debba avere il coraggio di togliere quello che non serve io dico noi abbiamo una provincia con 300 mila abitanti 310 mila abitanti abbiamo bisogno come avevamo di 6-7 ospedali probabilmente no anche perché abbiamo visto poi che i piccoli ospedali questa è una questione infinita sono neanche utili alla gente perché poi da una studio fatto molto seriamente dall'Agenzia Sanitaria Nazionale dal Ministero della Salute è venuto fuori è un studio interessante perché ha preso in esame tutte le prestazioni fatte da tutti i reparti ospedalieri pubblici e privati italiani degli ultimi 6 anni con che cosa hai fatto quanto è stata la degenza quanto è stata la sopravvivenza a 30 giorni quanto è stata il percorso diagnostico che hai fatto il percorso terapia fatto molto bene e si è visto che nei piccoli ospedali tutto sommato la richiesta di assistenza da parte degli abitanti era piuttosto scarsa c'era gente l'ospedale ce l'aveva vicino perché così chi lavorava nell'ospedale era là vicino poteva stare vicino casa per le cose più banali andavano lì se era una cosa seria andavano dall'altra parte è una questione infinita perché anche le obiezioni sono belle corpose sul territorio dei presidi eccetera però magari qui c'è un equivoco di fondo noi pensiamo e abbiamo sbagliato noi noi sanità io non c'ero insomma perché abbiamo lasciato pensare alla gente che sanità uguale ospedale non è così è stato tradito lo spirito della norma sanità è casa propria e poi via via più vicino casa possibile fino all'ospedale più vicino possibile però garantisce un servizio migliore ma l'ospedale che garantisce un servizio migliore serve per le acuzie per le quali c'è bisogno dell'ospedale perché il medico di medicina generale il territorio il distretto sanitario deve poter assicurare tutto quello che non è acuzie nell'immediato noi invece abbiamo mandato sul territorio i medici che in ospedale non ci vogliono più stare o che avevano litigato col primario magari demotivati perché se io faccio il medico e litigato col primario non posso più svolgere il mio mestiere come dico io bene è chiaro che mi spostano mi demotivo per cui abbiamo creato un qualcosa per cui sanità e ospedale tutto il resto se c'è una cosa semplice ci vado se non no è sbagliato noi dobbiamo riportare ognuno a fare il suo mestiere come è prescritto e farlo con autorevolezza farlo controllando allora probabilmente ci si rende conto che essendo l'ospedale per le cose serie bisogna andare dove le fanno sfare e le sanno fare dove ne fanno tante e non dove ne fanno poche il dibattito resta aperto su questo il dibattito resta aperto però su questo io credo io in una delle prossime occasioni porterò quello che sono le risultanze di questo studio di cui parlavo poc'anzi per quanto riguarda tanti piccoli ospedali va bene l'ultima domanda dobbiamo chiudere gliel'avevo già fatta e la ricordo fino a quando si vede direttore generale dell'ASL fino a quando cosa vorrà fare dopo allora io il mio carico scade il 31 dicembre di quest'anno io sono abituato a lavorare come se dovessi rimanere nei posti 100 anni perché non concepisco il breve termine il tradimento del ruolo bene e dico con tantissima sincerità se dovessi decidere io se rimanere o andarmene non saprei che cosa decidere è talmente gravoso questo incarico talmente impegnativo che mi consiglia di fuggire il più presto possibile dall'altro è tanto il lavoro avviato che la coscienza mi direbbe di rimanere siccome la decisione non è mia e della giunta regionale il problema a loro non è mio a me va bene qualunque cosa grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti